Ero a Vicenza, all'ospedale di Vicenza, dove mi curavano di questa perdita, otto giorni di morte ho avuto. Dopo gli otto giorni, poco per volta riprendevo, riprendevo poco per volta. E dopo un po' di tempo il primario dell'ospedale di Vicenza ha deciso che ero giunto il tempo, ero pronto per essere trasferito a contattare l'ospedale del Lido, l'ospedale del Lido di Venezia. E allora sono stato due mesi credo all'ospedale del Lido e poi dopo sono stato dimesso, e sono stato dimesso con l'incarico di fare la riabilitazione a Santa Lucia. Io che non lo conoscevo, cioè lo conoscevo di nome, lo conoscevo di nome e di fama, ma sono stato immediatamente accolto con grande simpatia, sia dal personale che dai dirigenti. E con una cura molto accurata, molto precisa, fisioterapica e mentale, e per cui praticamente credo che ho fatto due mesi di cure di riabilitazione, che sono andate benissime, io mi sento rinato proprio grazie a queste cure che ho fatto qua a Santa Lucia. L'ambiente era particolarmente caloroso, con me e tutti che sorridevano, mi salutavano, mi facevano dei grandi sorrisi, mi facevano dei grandi sorrisi, insomma ero io che sorridevo a loro, poi dopo non c'era tanto da sorridere, insomma era piacevole, era rimanere piacevole all'ospedale. Nel mio caso mi aiutava molto al riacquisto delle facoltà, delle doti che erano il mio potere, insomma, che erano il mio potere. È tanto vero che, insomma, poco per volta mi è ritornata la voglia di fare cinema, e così ho ripreso in mano dei vecchi progetti, delle vecchie storie, e vediamo se riusciamo a portare in porto. Essendo di dire che è un crimine a voler tagliare Santa Lucia o ridurre le possibilità economiche che ha la Santa Lucia, è un crimine perché non guardano in faccia quella che è la realtà dell'Istituto, che assolutamente si basa sulla buona volontà di quelli che ci lavorano, sulla efficacia della prestazione delle loro ricerche, delle loro opere, ma insomma è sulla qualità delle prestazioni che loro offrono. E sono veramente dolorose queste notizie, queste tentative che fanno di chiudere o di abolire le finanziamenti a Santa Lucia, perché portano, perché sono dei finanziamenti fondamentali, e quindi toglierli riducono una prestazione che è fondamentale. Grazie infinite e viva Santa Lucia! E viva Santa Lucia! Grazie!